Qualcuno non trova più la sua roba. Come avete capito, Eros si sta comportando malissimo in questa stagione. E non è da meno, perché cosa è successo? Le sorelle, le figlie della sorella, è andata in una casa famiglia perché c'era della droga dentro il dizionario. E la droga era sua, ma adesso fa finta di niente. Fa finta che non è sua la droga. E questa è ancora peggio, la mia situazione. Finalmente dice che la droga è sua. E quindi questa è la reazione di Fabio. Ovviamente, come qualsiasi persona reagirebbe così. Cioè, spiegami un po'. Tu hai avuto tutto il tempo del mondo per poter andartene via da questa cittadina, a questo paesino del cavolo. E tu decidi adesso di voler scappare e lasciare tutti nella merda. Cioè, proprio... Cioè, di male in peggio. Cioè, non lo so che... Come sei diventato, Eros? Veramente. Non ti riconosco più. Ciao. Ciao.